A volte per andare lontano basta fare pochi passi. A volte per incontrare la natura basta salire pochi gradini. A volte per viaggiare si possono spegnere i motori. L'oasi in città sorge al centro di Sant'Agnello su un'autorimessa. L'oasi nasce dalla collaborazione del WWF Terre del Tirreno con il comune di Sant'Agnello. All'oasi abbiamo imparato ad apprezzare gli straordinari profumi che offre la natura. Abbiamo imparato a rispettarla guidati da chi con grande competenza e disponibilità ce ne ha svelato i segreti. Della natura abbiamo scoperto i colori, i sapori. Nel silenzio dell'oasi abbiamo imparato ad osservare i piccoli ospiti. All'oasi ci sono i nostri nel silenzio ed abbiamo imparato che anche noi possiamo contribuire affinché chi è più giovane impari a conoscere e rispettare la natura. Nella nostra meravigliosa terra, dopo aver respirato il profumo del mare, vieni ad immergerti nella pace incantata dell'oasi in città. Nella nostra meravigliosa terra, dopo aver rispettare la natura. Nella nostra meravigliosa terra, dopo aver rispettare la natura. Nella nostra meravigliosa terra, dopo aver rispettare la natura. grazie a tutti 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 grazie a tutti